25 milioni di euro per le categorie toscane più penalizzate dalla pandemia di covid-19. I contributi sono stanziati dalla regione toscana tramite nuovi bandi e nuovi ristori. Per l'artigianato artistico sono previsti 3 milioni e 800 mila euro, per i ristoratori 4 milioni, per gli organizzatori di eventi, svago e gestori di attività sportive 2 milioni e 700 mila euro. Per le categorie appena elencate è previsto un contributo a fondo perduto da 2.500 euro. Al mondo del turismo sono invece destinati 14 milioni e 600 mila euro. Di questi 6 sono dedicate ai tassisti, guide e agenzie di viaggio. I restanti 8 milioni e 600 mila alle strutture ricettive. Li dividiamo in blocchi di vari bandi per non aggravare la pressione sulla piattaforma, per consentire a chi deve istruire le pratiche di di formalizzare prima possibile le graduatorie e iniziare a pagare nel mentre. E quindi ci sarà uno sviluppo da qui alla metà di giugno per questo tipo di bandi. Per poter ricevere i contributi è necessario un calo di fatturato pari almeno al 30% e non ci sarà click day. Beh, abbiamo preso proprio spunto dal primo bando, quello di gennaio, quindi ogni bando sarà pubblicato per due settimane, verrà stilata automaticamente una gradatoria di perdita di fatturato, potranno accedere soltanto coloro che hanno avuto nel 2020 un calo di fatturato almeno del 30% e quindi nessun click day, il tempo per tutti di organizzarsi, una procedura molto semplice da usare senza bisogno per forza di coinvolgere un professionista, poi ovviamente chi ce l'ha lo utilizzerà, ma l'accesso sarà facilitato. I 25 milioni di aiuti scaturiscono dagli 11 milioni avanzati dal precedente bando della regione, da altri 5 milioni della regione e da 8 milioni e 600 mila euro in arrivo dal governo con il decreto sostegni.